Siamo ancora in compagnia del dottor Giuseppe Caccioppoli alla ricerca di fatti più o meno conosciuti ma sicuramente tutti significativi che riguardano la vita di Padre Pio. Oggi idealmente ci sposteremo su vari campi di battaglia per raccontare alcuni avvenimenti che ci aiuteranno a riflettere. Allora cominciamo con la Prima Guerra Mondiale. Con la Prima Guerra Mondiale è un episodio che riguarda il generale Cadorna e che è stato riportato tante volte. Al tempo dell'episodio Padre Pio era un soldato, era attivo, quindi era un militare. Era il 24 ottobre 1917. In quel giorno avvenne la grande disfatta degli italiani a Caporetto dove morirono 40.000 uomini, ne furono ferite 90.000, 300.000 vennero fatti prigionieri. Il generale Cadorna che era il generale in capo dell'esercito italiano, venne sostituito quel giorno dal generale Armando Diaz e non sopportando il disonore della disfatta, disperato e depresso decise di suicidarsi. Una notte, pochi giorni dopo, diede ordini alla sentinella di non far passare nessuno, dato che non voleva essere disturbato. Pioveva, i tuoni si attrenavano agli scoppi dei cannoni austriaci e i lampi brillavano nell'oscurità. Il generale si decise, prese una pistola dal suo cassetto e si risolse di togliersi la vita. Ma in quel preciso istante vide di fronte a sé la figura di un frate e avvertì uno strano profumo di rose e violette. Prima di potergli chiedere chi era e chi l'aveva fatta entrare, si sentì abbracciare da lui e udì una voce che gli parlava in nome di Dio e lo invitava a farsi coraggio e a deporre l'arma. Il generale, pentito della sua debolezza, volle parlare con il frate, il quale però scomparve. Il comandante pensò in continuazione a questo frate e terminata la guerra vide la sua foto su un giornale. Cioè vide la foto di padre Pio. E seppe che si chiamava padre Pio. Così non perdette tempo e si precipitò a San Giovanni Rotondo, dove lo riconobbe e aspettò che passasse. Quando il padre Pio gli fu vicino disse al generale, l'abbiamo passata brutta quella notte. E così. E da lì comprendiamo che era effettivamente lui quel frate comparso dinanzi a Cadorna che voleva suicidarsi. Scendiamo di grado e andiamo in là negli anni. La prima guerra mondiale era finita nel 1919. Un ufficiale, ovviamente con un grado inferiore rispetto a quello del generale Cadorna, fece un'altra esperienza. Siamo sempre a un episodio che era accaduto nella prima guerra mondiale, ma siamo verso la fine del 1919, quando un giorno padre Pio ci stava togliendo i paramenti in sacristia e c'era un signore che lo guardava fisso e poi disse, sì è proprio lui, non mi sbaglio. Allora la gente, quando uscirono fuori, quando la gente uscì si avvicinò e si mise in ginocchio piangendo davanti al padre Pio e gli disse, padre grazie di avermi salvato dalla morte. Padre Pio gli mise la mano sul capo e disse, non devi ringraziare me il figliolo, ma nostro signore è la Vergine. Poi rimasero a parlare per alcuni minuti e quando uscì qualcosa, qualcuno gli chiese che cosa fosse successo e gli riportò che io ero un capitano di fanteria e un giorno sul campo di battaglia, in un'ora terribile di fuoco, poco distante da me, vidi un frate pallido e dagli occhi espressivi che non aveva il distintivo di Cappellano e che mi chiamò e mi disse, signor Cappellano si allontani da quel posto. Io andai verso di lui e prima ancora di arrivare sul posto dove mi trovavo, dove mi trovavo prima scoppiò una granata e aprì una voragine. Se io fossi rimasto lì sarei volato in aria e mi girai verso il fraticello, ma non c'era più. Questo chi lo narra, questo episodio? Questo episodio è il padre Alessandro D'Aripa Bottoni nel libro San Pio da Petercina, il Cireneo di tutti. Andiamo ad un altro episodio che riguarda questa volta, scendiamo ancora di grado, un soldato semplice. Un soldato semplice e raccontavano anche loro di essere stati aiutati da padre Pio e liberati da un grave pericolo di morte. Tra loro ce n'era uno che disse che era padre Pio, il santo del convento di San Giuseppe, che si fece vedere sul campo di battaglia e lui per più per curiosità che per fede andò a vedere il frate che gli aveva salvato la vita per vedere se era proprio lui e lui aveva in mente stampato la figura di quel frate e disse che era proprio la persona che l'aveva salvata la vita e era felice di averlo ringraziato personalmente e di potergli baciare le sue sante mani. Parliamo adesso dell'esperienza di un militare particolare perché era un sacerdote, un sacerdote francese che ebbe anche lui un incontro particolare con padre Pio. Stiamo parlando di padre Jean de Robert, è un francese e ha scritto un grosso libro su padre Pio, assai affascinante. Quello che gli capitò, io l'ho visto pure nella televisione italiana, perché lui è stato ospite di porta a porta e dove ha riferito l'episodio e tanti studiosi hanno detto loro su quello che il padre di Roberto ha detto e che sembra quasi incredibile, ma è una cosa assolutamente straordinaria e vale la pena di sentirla solo per l'ultima frase che arriverà alla fine, fine, fine. Padre de Robert era nato anni sì in Francia e divino figlio spirituale di padre Pio il 3 ottobre del 55, quando lui era studente per diventare prete e studiava all'Università Gregoriana di Roma. In quell'occasione padre Pio lo accolse come figlio spirituale e gli disse tu sei il figlio del mio cuore e ti prometto assistenza sempre e dovunque. Adesso, quello era il 55, nel 58 lui era già sacerdote, in Francia i sacerdoti hanno il servizio militare obbligatorio. Così nel 58 si trovava come soldato dell'esercito francese in Algeria e un giorno ricevette stranamente un biglietto da padre Pio, solo due righe, e il biglietto diceva che la vita è una lotta ma ci porta alla luce. E lui, non lo so, non fece niente, ma rimase impressionato che padre Pio non sapeva dove stava lui e diceva questo biglietto con questa frase che poi capiamo dopo di che si tratta. Quella sera stessa che ricevette i bigliettini da padre Pio, sei soldati di cui faceva parte pure padre De Roberto, cadono in un'imboscata dei guerriglieri del fronte della liberazione nazionale algerino e tutti e sei furono messi contro una porta, contro un portone e fucilati. Adesso padre De Roberto dice che gli altri cinque soldati morirono e De Roberto vide il suo corpo stesso, steso, sanguinante accanto agli altri, ma lui era separato dal corpo e cominciò a salire come in un tunnel. Poi si trovò nella sua casa, nella stanza dei genitori, poi continuò la salita e si trovò nella stanza di padre Pio dove si messe a conversare con lui e dopo, ancora attraversando quella specie di tunnel, si trovò in un paesaggio meraviglioso dove vide migliaia di persone, tutte sui trent'anni. Lui ne conosceva tanti che erano morti a due anni o a più di ottant'anni, ma tutti avevano sui trent'anni ed era come un paradiso pieno di fiori straordinari. Poi De Roberto perse la sua natura di uomo e divenne come una goccia, una goccia di luce e si sentì dire, tu sei una goccia di luce come emanazione della luce divina e vide migliaia di gocce di luce, San Pietro, San Paolo, San Giovanni, questo e quel santo, erano tutti gocce di luce. Poi lasciò quel livello e andò ancora più su, qui vide Maria meravigliosamente bella nel suo vestito di luce e Maria lo abbracciò e lo baciò e dietro di lui c'era Gesù che fece lo stesso. Poi entrò in un'altra zona come se ci fosse il padre e lì conobbe la felicità perfetta come soddisfacimento di tutto quello che uno possa desiderare. E poi bruscamente si ritrovò col naso nella polvere, si ritrovò vicino ai suoi compagni. Nel campo di battaglia. Nel campo di battaglia, essi erano veramente morti e lui vide che il suo vestito era pieno di buchi di fronte e di dietro e si tolse il vestito ma non trovò il buchi sulla sua carne. Le perlotte erano entrate e uscite ma non avevano lasciato traccia sul suo corpo. Così si presentò al suo comandante che gli disse ma tu sei miracolato. E qui viene la frase di padre Pio. Diverso tempo dopo padre Jean de Roberto. Ritornò da padre Pio e padre Pio senza chiedergli nulla disse figliolino mio quanto mi hai fatto correre ma ciò che hai visto era tanto bello. E questo è come si spiega. E padre Pio evidentemente sapeva, aveva percezione di quello che aveva potuto vedere padre Jean de Robert. E di questo parleremo nella prossima puntata.